Appuntamento settimanale con l'angolo del coach. Coach Friso, domenica la squadra si merita un bel 10. 10 è un voto importante e ci riempie di responsabilità. Abbiamo fatto una buona partita, è stata positiva sotto tutti i punti di vista sia in attacco sia in difesa finalmente per 40 minuti. Abbiamo giocato contro una grandissima squadra, allenata benissimo, che veniva da un periodo molto favorevole di risultati, per cui questi due punti potrebbero sparigliare la nostra classifica se, sempre, se continueremo a fare il nostro dovere. La domanda questa settimana è, saremo pronti a prendere 20 punti a Iesi? Ecco, infatti è quello il problema, come dicevi tu, non dobbiamo sentirci né troppo bravi né troppo belli, specchiarci troppo. Noi siamo un po' strani, devo essere sincero, però spero, mi auguro che questa fiducia che ci ha dato la vittoria con Cesena possa un po' sbloccarci, però non mi fido molto, per cui questa settimana ci sveglieremo presto e faremo allenamenti un po' dure. Ecco, parlando di Iesi, squadra è uno scontro diretto, perché siete proprio a pari punti, all'andata è arrivata una vittoria, mi sembra, di 15 punti, però è cambiata molto, vero? A cominciare dall'allenatore. È cambiato l'allenatore, che ha un'impronta sicuramente diversa rispetto all'andata, l'allenatore che c'era all'andata prediligeva probabilmente di più l'attacco, era una squadra che correva molto in transizione, questo invece che viene da esperienze diverse, Vedi Omenia l'anno scorso punta molto sulla difesa, è una squadra che ha cambiato abbastanza pelle, ha aggiunto un giocatore importante che è Sgorbati, che viene dalla Serie A, che l'anno scorso era in fortitudo, ha avuto qualche infortunio, però probabilmente con noi ci saranno tutti, una squadra assolutamente da temere, perché ha un buonissimo potenziale. Le caratteristiche quindi di Esi, quali sono? Allora, ha un playmaker che noi conosciamo, perché l'abbiamo incontrato l'anno scorso in Coppa Italia con Caserta, che gioca molto spalle a canestro, che ha gran ritmo, che ha bottioni, ha due guardie tiratrici dal tiro mortifero, che sono Giampieri e Magrini, ha questo lungo atipico di 2,5 metri, ma che corre come una guardia, che può tirare a tre punti, che all'andata ci fece anche abbastanza male. Possono giocare con quintetti molto atipici, portando fuori i nostri lunghi, perché è una partita da temere. Poi siamo pari in classifica, concorriamo per un posto, anche se sarà molto complicato quello di arrivare ai play-off, ma guardando sempre dietro, per cui è una partita che vale veramente quattro punti. Sarà importante l'approccio mentale, perché se noi non giochiamo la nostra pallacanestro con loro sarà veramente complicata. Quindi cosa dovrete fare? Dobbiamo difendere, 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 difendere. Solo così possiamo avere qualche chance di vincere a Iesi. Se rinunciamo a avere la giusta aggressività, è una squadra che ha un ottimo potenziale d'attacco, sarà veramente difficile.